Salve bibite frizzanti e benvenuto oppure ben ritrovati sul mio canale, io sono Malta e in questi lì di parliamo di cose nerd. Oggi sono qui dopo più di due anni per mostrarvi l'aggiornamento della mia stanza. All'interno di questo contenuto vi andrò a mostrare molto brevemente, perché poi nelle prossime settimane arriverà il vero e proprio video collezione, quella che è quasi tutta la mia collezione manga, qualche videogioco da me posseduto per PlayStation 5 e tante tante belle figures. Di conseguenza oggi più che mai potete correre in cucina a prendere dei popcorn e una bibita fresca per gustare a meglio quest'ultimo video del vostro Malta. Perché questo è tutto quello presente all'interno della mia Tana. Ma prima di far ciò, come sempre, sigla. Anzitutto il Bart, perché è l'elemento più importante di questa stanza. Ciao Bartolomeo, quanto sei carino, mamma mia. Subito qua, dove c'era il Bart sdraiato, possiamo trovare uno dei due letti presenti nella mia stanza. È quello di mio fratello, di conseguenza, dato che è andato a vivere da solo parecchi anni fa ormai, è inutilizzato. Se non, qualche volta da me, quando Marianna viene a trovarmi, oppure, come avrete avuto modo di vedere qualche secondo fa, dal cane. Sopra possiamo trovare due armadi, continenti, ovviamente, vestiti. Su uno sono attaccati dei poster di One Piece. In particolar modo uno raffigurante ai primi tre membri della ciurma, uno raffigurante Zoro, Rufy e Chopper. I tre, con uno stile simile, sono stati presi in Giappone. Originariamente sarebbero dei portadocumenti, ma ho deciso di riarrangiarli così, perché altrimenti non li avrei utilizzati. Di fianco, un bellissimo poster del Milan, quello dello stupendo manga chiamato Kaiju Number 8. Vi prego, non leggetelo, fatevi questo favore. E infine, due di Genshin Impact, raffiguranti Mona, a sinistra, e Ganyu, a destra. Subito di fianco, possiamo trovare una delle librerie contenenti manga. Qui c'è Noragami, una figure di Best Genie, stella variante di Cavalieri dello Zodiaco, per dirne qualcuno. Subito sotto, due figures, una raffigurante Maesakurajima di Banigar Senpai e una di Atsune Miku, con qualche manga shoujo, come per esempio Mars, e fumetti occidentali. Non possono mancare all'appello degli Entai. Ancora sotto, parte supereroistica, con One Punch Man, con tanto di figure dell'Atsume di Saitama, e la variant natalizia, tra molte virgolette, del volume numero 1. Qualche titolo della Marvel e della DC, un Funko Pop di Iron Man e uno di Cosmo. Ancora più sotto, altre librerie con due figure di Ren, senza scordare queste bellissime perle di Naruto. Queste due, tra l'altro, venivano vendute separatamente, ma mi sono state regalate entrambe da Marianna ormai parecchi anni fa, per formare questo bellissimo Diorama. E poi un Kakashi sempre della stessa collana, diciamo. Il mio splendido letto, con tanti pupazzi, praticamente c'ho più pupazzi ora rispetto a quando ero bambino, ma ognuno di essi per me è speciale, in quanto sono legati a un determinato ricordo. Per esempio, lo Snorlax l'ho vinto a Gardaland, mentre ero con Marianna. Oppure il Lama di Fortnite, dato che sì, giocavo a questo gioco parecchi anni fa, è stato uno dei primi regali che Marianna mi abbia mai fatto. Quindi diciamo che ad ogni cosa presente sul mio letto corrisponde un determinato ricordo. Sono un tipo molto sentimentale, a quanto pare. Sopra al letto, pronto a cadermi in testa, c'è questo armadio. Sì, ci sono sempre dei poster, uno di Wargreymon di Digimon e due di One Piece, ovvero la taglia di Monkey di Luffy e Rorono Zoro, ma dentro possiamo trovare qualcosina di spizioso. Qualche serie completa, tra cui tutto Fairy Tail dall'1 al 63 e dietro l'opera di Romashima, Toriko di Shimabukuro, un manga orribile che non vi consiglio di comprare, il famoso Spider-Bot preso a Disneyland. Lì dentro perché non so dove mettermelo, è troppo grande e non ho spazio, quindi poverino è stato relegato in questo anfratto. E qualche altra serie, come per esempio Inazumi degli Spiriti che sto cercando di vendere su Vinted per un mio amico, Another, i volumi di Blitz che sì, molto carino, ma non so dove mettermelo, e i volumi della Gold di Naruto, che anche questi sto cercando di sbolognare per conto di Marianna. E poi il box delle carte waifu. È una figura di Robin che mi è arrivata devastata dal sito di GameStop. Panoramica della mia collezione che arriva fino al soffitto, con The Walking Dead, L'Immortale, Medaka Box, Erased, serie sentimentali come per esempio Video Gorlai, My Dress Up Darling, Kowloon, e chi più ne ha più ne metta, altre serie molto molto cute, come per esempio Comic & Communicate, Bunny Girl Senpai, Musubu e altra bella robina, reparto principalmente dedicato ad Oshimi, questo con I Fiori del Male, Dentro Mari, Bentornato Alice, Drifting Net, Tracce di Sangue, ma anche Oshinoko e Irayasumi, scaffale serie un po' a caso, diciamo, perché c'è Deadpool Samurai, Boys Abyss e Kanbanashi, reparto Cannibalismo Zombie, quindi Cannibal, Ayemakiro e Zombie 100 con una figura di C-18, qualche Kanzenban, tra cui Sanctuary, Blue Giant e Aria, e infine gli artbook, principalmente quelli di Yom, grande essere e disegnatore di cultura, uno di Aikyu, Konosuba, One Piece, Final Fantasy XIV e molto molto altro. Prima di andare avanti a mostrarvi la mia meravigliosa stanza, vi invito ad iscrivervi al canale, se ancora non lo avete fatto, di attivare la campanellina per non perdervi nessuna delle prossime pubblicazioni. È un piccolo gesto che a voi non costa nulla, ma invece a me supporterete tantissimo. Grazie, grazie, grazie. Subito di fianco alla libreria, attaccata al muro, vi sono delle mensole, due dedicate a Yu-Gi-Oh! con vari cofanetti, box e structure deck abbastanza rari, mentre al di sotto troviamo delle figures. Konosuba più Rem, Dragon Ball Super più Lego del Giappone, Wargreymon più due ragazze appartenenti a Persona 4 e una scattac di Fate, e il reparto Goku con varie trasformazioni del protagonista di Dragon Ball. Di fianco, subito sotto la finestra e attaccata al calorifero, un'altra piccola libreria, scaffale horror con Helsing, qualche manga di Junji Ito e le opere di Gotanabe che adattano i volumi di Lovecraft. Ah sì, poi c'è quello schifo di Kikiri Killer. Ancora più sotto, e mi sto sfracellando per farvelo vedere, un altro scaffale con Goblin Slayer davanti al suo manga, e Gleipnir, manga dark fantasy molto carino. Facendo una rapida giravolta, ci spostiamo in una vetrinetta con tre delle migliori figure che ho, ovvero la regina di cuori della Mietos, Raftalia di Rising of the Shield Hero con un Funko Pop di Crash in versione Team Racing, e poi il Bianconiglio, sempre della Mietos. Sopra abbiamo qualche edizione deluxe, due di Persona 5 e una di Sarankagura Beach Pitch Splash, e il gioco di carte collezionabili dei Digimon, usciti anni e anni fa in Italia. Postazione bella bella con il mio computer, non sto a dirvi le specifiche perché altrimenti finiremmo nel 2047, poi onestamente non me le ricordo molto bene. Schermo 1 4K a cui è attaccata la Play 5, una soundbar standard per sentire al meglio, e una tastiera o mouse abbastanza pacchi. L'altro schermo invece è dedicato alla Nintendo Switch, con una cassa della JPL abbastanza pacca, e un portacellulare trovato nel nuovo di Pasqua di Stranger Things un paio di anni fa. Faccio notare che seppur molto rovinato, posseggo un bellissimo mousepad di cultura. Dietro ai monitor troviamo la PlayStation 5 con tanto di cuffie Pulse 3D, due joypad, uno bordeaux e uno bianco, e il guanto di Thanos che mi è stato regalato da Marianna per il compleanno ormai tre o quattro anni fa. Da qui poi scendiamo, ci sono le magliette. Tante belle magliette, tre quarti sono di pampling, vi ricordo che facendo un acquisto su quel sito e inserendo il codice Malta avrete un paio di calze in regalo, vi giuro ne ho talmente tante che ho dovuto piegarle così. Ma che ci volete fare? A me le maglie particolari con sughi rigori e disegni strambi piacciono sempre tantissimo. Sopra la postazione da gaming, altra libreria con tante belle cosine sfiziose e tante tante figures. Una menzione d'onore secondo me va allo scaffale dedicato ai Persona, con manga di Persona 4 in giapponese, il Blu-ray della serie animata e il manga di Persona 5, una statua di Mitsuru Kirigio di Persona 3, quella di Futaba di Persona 5, e la maschera di Joker che veniva data all'interno della Collector's Edition di Persona 5 Royale. Caffale dedicato ai film di Broly. E infine, Pila della Vregogna, quella dietro, la fantastica resina di Ruffy Gear 5 della LX Studio, una grandista di Zoro che verrà presto rimpiazzata da un'altra resina, e appunto la Pila della Vregogna con qualche titolo come ad esempio Berserk Vol. 4, Sanctuary 6, Blue Lock, Yamahiro, Billy, Battle Wars and Darem e tanta altra bella robina. Di fianco alla postazione da gaming troviamo un'altra libreria con qualche figures e tante serie manga. Figure di Gogeta e Saber di Fate, con dietro Kaiju No. 8 e Claymore. Sopra reparto dedicato a Dragon Ball e in parte One Piece, con due figure di Zoro e Sanji. Scaffale con tutto One Piece, o almeno circa, dall'1 al 86, con tanto di primo volume in giapponese, litografia che veniva data al Mugiwara Store in Giappone, e box speciale del centesimo numero. Tra l'altro vi faccio vedere questo Shikishi meraviglioso preso in Giappone. Naruto, con Takopi Original Sin. Altro scaffale dedicato ai manga Shounen. Possiamo trovare, infatti, Shaman King, Triage X e Heartgear, con due figure, una di Lucy Heartfiglia di Fairy Tail e una di Trunks e Vegeta di Dragon Ball Super. E per ultimo, Full Metal Alchemist con davanti due figures, una di Tama di One Piece e l'altra di una bellissima donzella, di cui non conosco il nome, ma l'ho trovata in Giappone a bassissimo prezzo, e ho detto perché non. E nel cassetto, immediatamente sotto a questa libreria, tutti i giochi della Play 5. Demon's Soul, Persona, Dead Island 2, qualche gioco della Switch, Uncharted, One Piece Odyssey, Persona 5 Royale. Se volete una maggiore panoramica di tutti quelli che sono i miei giochi per PlayStation 5, vi lascio qua in alto nelle schede un video che feci l'anno scorso e che dovrei aggiornare, anche se non è che si sia aggiunta troppa roba. Fatemi sapere nei commenti se volete un aggiornamento, comunque. Ultima libreria della mia stanza, ma penso ci sia da fare una grandissima menzione d'onore per le tre figures di Yu-Gi-Oh! della First Four Figures. Ragazza Maga Nera, Drago Bianco, Occhi Blu in tutta la sua possenza, e Mago Nero. Dietro possiamo trovare Akira e i manga di Urasawa, tra cui Monster, 27 Tori Boys, Asadora e il primo di Pluto. Un Bulbasaur che in realtà è una borraccia, e ancora più dietro la bacchetta di Sirius Black e il biglietto per Hogwarts. Sopra invece il cono gelato di Gengar, i manga di Asano e quelli di nostro fratello Fujimoto. Ah sì, e poi c'è anche Yu-Gi-Oh! di Takashi, con un Funko Pop di Obelisco e il Tormentatore, una figure di Power e il già citato Kono Gengar. Sopra ancora qualche weekly shonen jump presi in Giappone, i primi tre volumi di Berserk Deluxe, La Divina Commedia di Gonagai, Blanca, i gatti del Louvre, Ping-Pong, i fiori del male di Kamimura e Okazaki, e qualche altro volumetto con delle minifigure di Pokémon. E per concludere, due armadi. Qui ci sono dentro i jeans e i pantaloni in generale, qua roba. Prima o poi esplode. E infine, come non citare, via dai cazzo, lo splendido avvitatore Makita. Ottima qualità, super consigliato, ci ho montato le mensole che è una meraviglia. Va bene, no dai, povero zaino, questo lo usavo per andare all'università. L'ho preso a Disneyland Paris. Facciamo una piccola panoramica. Prima o poi esco io da questa stanza. E questa era tutta la mia stanza, in tutta la sua bellezza. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ditemi magari qual è il pezzo da collezione che maggiormente mi invidiate. Detto questo, il video si può concludere qui, io spero vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdervi nessuna delle prossime pubblicazioni, e fate un rapido check anche dei miei social, Instagram, gruppo Telegram e canale delle live, canale su cui faccio almeno tre live a settimana, due alle 21.15 lunedì e il giovedì, e una la domenica alle 11. Tutto è qua sotto, grazie mille a chiunque vorrà venirmi a supportare anche su altre piattaforme. Detto ciò, noi possiamo salutarci e vederci in un prossimo video. Ciao!